Cura del dettaglio e originali meccanizzazioni si possono ammirare al presepe artigianale di Trovigiano di Cingoli. Collocato all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta è stato realizzato dalle sapienti mani artigiane di Enrico e Gianfilippo che condividono la passione per quest'arte da 16 anni. Negli anni il presepe è stato ampliato e sono state introdotte molte novità. Abbiamo cercato di fare ogni singola statua diversi movimenti, come l'arrodino che affida il coltello, poi si alza e lo guarda. Alla statua lì il bevitore che si diverte il vino poi avvicina il bicchiere alla bocca. Poi c'è anche un'altra statua come il fabbro che avvicina il ferro sopra il fuoco che logicamente si scalda, diventa rosso e poi lui lo batte e si raffredda. Le parole chiave di questo presepe sono artigianato e fantasia. A lavorarci non a caso sono due cittadini che provengono da professioni tecniche e manuali. Tanti i visitatori anche da fuori regione. C'è tanto artigianato, io mi occupo soltanto dei particolari pezzi per le scenografie, diciamo, il banco lì che ci sono degli attrezzi che hanno sistemato l'arrodino, affilati. Io faccio solo così, poca roba, aiuto, l'aiutante.